Sarà presentato domani alla Commissione Bilancio della Camera il disegno di legge sul federalismo fiscale dopo l'approvazione al Senato. Tre i punti essenziali. Il primo è quello di considerare le fonti di finanziamento degli enti locali, i quali saranno finanziati dallo Stato, che individuerà i tributi propri dei comuni e delle province, riconoscendo alle regioni la potestà di istituire nuovi tributi comunali e provinciali nel proprio territorio. Il secondo punto invece stabilisce e coordina i livelli di spesa degli enti locali. Sanità, istruzione e assistenza infatti dovranno rispondere a costi standard stabiliti dallo Stato. Le altre spese saranno finanziate con il gettito dei tributi regionali. Si modifica così l'uniformità dei costi che seguiranno le caratteristiche del territorio. Il terzo punto infine prevede l'istituzione del fondo per equativo. Il fondo verrà alimentato dalle regioni e sarà controllato da una conferenza della finanza pubblica, la quale consentirà di verificare che i soldi dati alle regioni che chiedono contributi rispondano anche di come utilizzano quei fondi.